Eccellentissimo signor Ministro, autorità tutte, cari amiche e cari amici, prendo la parola con un po' di emozione, perché questa è la prima volta in cui un capo del governo italiano ha l'occasione di visitare Cuba e di partecipare a questo importante business forum. E non posso non partire da questa emozione personale, perché ci sono dei momenti in cui la storia fa sentire il proprio peso, ci sono dei momenti in cui la storia fa gli straordinari. Io credo che questo sia uno di quei momenti. Già l'Italia aveva realizzato negli ultimi mesi tre visite di alto livello, la visita del Ministro degli Esteri e poi il Vice Ministro Calenda e il Sottosegretario Giro a luglio erano stati qui con 80 imprese. E ancora l'allora Ministro degli Esteri aveva programmato una visita alla Ministra Mogherini, che poi è stata tenuta qualche mese dopo con una nuova veste, perché come sapete la Ministra Mogherini è stata chiamata a un importante incarico alla Guardia della diplomazia europea. Dunque c'è una grande attenzione del nostro Governo, ma questa attenzione nasce e si inquadra oggi in un momento di cambiamento rilevante e sono molto fiero e felice che il Presidente Raul Castro abbia avuto modo di dedicare del tempo nella sua visita romana a un bello scambio di opinioni e valutazioni domenica 11 maggio scorso. Sono felice di poterlo rincontrare questa sera e continuare il nostro dialogo. Questa mattina vi confesso che mi sono messo a correre stamattina presto, quando ancora era buio, nella Havana vecchia e devo dire che ho visto tutta la magia di questo luogo, di questa città e anche le potenzialità per le quali le imprese italiane hanno spazio di azione. Penso naturalmente innanzitutto al settore del turismo, lo ricordava il Ministro del Commercio con l'Estero. È un tema molto importante, significativo. Oggi l'esperienza del turismo è cambiata, non si cerca soltanto dei luoghi belli, ma dei luoghi con un'anima e sicuramente Cuba può crescere ancora di più di quanto stia facendo sino ad oggi. Alle imprenditrici, agli imprenditori italiani l'augurio e l'invito ad essere molto operativi, molto concreti, andare a verificare puntualmente quali sono le grandi occasioni che si aprono. Ma c'è anche un grande tema legato a tutto il settore delle costruzioni, non soltanto alle costruzioni turistiche, al settore immobiliare, a ciò che può fare grande e forte l'interscambio. Io, signor Ministro, solitamente sono abituato, quando vado all'estero a raccontare quanto è grande la cultura italiana e oggi potrei dire quanto sono interessato alla cultura cubana, perché penso che per il nostro Paese l'elemento chiave sia proprio la forza culturale. Non è un caso che negli scambi di cooperazione, ho visto qualcosa intorno alla piazza di San Francisco questa mattina, ma anche all'Iglesia dietro, che adesso è diventato un museo, mi hanno spiegato l'intendente come funziona il meccanismo di cooperazione internazionale. Bene, in questa cooperazione c'è molto di Italia. Tuttavia, quello che mi colpisce da quando guardo le statistiche e faccio questo nuovo lavoro è che se c'è una caratteristica in cui gli italiani sono forti nel mondo, prima ancora degli aspetti che io considero prioritari, gli aspetti culturali ed educativi e tra l'altro tra poco andrò all'Istituto d'Arte, è la qualità dell'ingegneria e della capacità innovativa che hanno molte nostre aziende. Dunque questo è un settore che è molto interessante, è un settore che può vedere una grande collaborazione. Così come pure credo che sia particolarmente interessante lo scambio che possiamo avere tra agricoltura ed agroindustria. Cuba oggi ha la possibilità di diminuire l'import di alimenti, cioè di ridurre la propria dipendenza dall'estero su questo, avendo dei territori che possono prestarsi bene, ma c'è bisogno che l'imprenditrice e gli imprenditori italiani facciano la loro parte offrendo occasioni concrete, sì non soltanto sui macchinari ma sulla filiera integrata. Quindi questo è uno spazio che io credo abbia un interesse davvero significativo. E ancora, caro signor Ministro, mi piacerebbe tanto che Cuba potesse essere un luogo dove possiamo fare insieme qualche operazione significativa sulle energie rinnovabili. In questa missione in America Latina abbiamo inaugurato importantissime iniziative di energia rinnovabile in Cile, in Colombia, con alcune delle realtà più interessanti. La centrale idroelettrica di Chimbo in Colombia vale il 5% dell'energia elettrica di tutta la Colombia. In Cile abbiamo inaugurato quattro impianti con un solo clic. Mi piacerebbe molto che insieme lavorassimo su alcuni settori, essendo Cuba non soltanto una bellissima isola, ma anche un'isola che si presta molto bene alle energie rinnovabili e oggi ha la possibilità di, essendosi data un obiettivo molto ambizioso, il vostro governo, signor Ministro, si è dato un obiettivo che noi pensiamo molto bello e ambizioso di arrivare al 2030 con il 24% di energie rinnovabili. Noi vorremmo dirle, signor Ministro, che siamo disponibili ad essere partner di questa scommessa con le nostre aziende, su tutte Enel, ma le tante aziende che lavorano nella filiera in questo settore. Potrei continuare a lungo, ma è bene che il Business Forum faccia parlare gli imprenditori e faccia discutere nel merito delle tante opportunità che ci sono. Io però voglio dire una cosa, una cosa agli amici italiani e una cosa agli amici cubani. Agli imprenditori italiani vorrei dare l'invito forte a investire in questo Paese. Il governo guidato dal Presidente Castro si è dato degli obiettivi che sono politicamente storici e economicamente ambiziosi. Il vostro governo, il governo italiano sostiene e sosterrà con rinnovata fiducia il vostro impegno. Se avete visto le notizie di oggi dall'Italia, stiamo registrando per la prima volta dopo molti anni un cambiamento di clima profondo. L'Istat ci dice che la fiducia dei consumatori è al massimo dal 2002, la fiducia delle imprese è al massimo dal 2007. Siamo tornati ai livelli di precrisi, l'Italia ci crede. Il governo è qui con una missione di sistema per dire che non vi lascia soli a cercare singole occasioni di business. Noi ci siamo e ci siamo come Paese e ci siamo convinti che la pagina migliore dell'Italia debba ancora venire, che questi dati siano soltanto l'antipasto di quello che potrà avvenire nei prossimi mesi. Agli amici cubani voglio dire innanzitutto grazie per averci accolto. Con la consueta amicizia che caratterizza la storia di tanti anni, pur tra le difficoltà, pur tra mille problemi, c'è tra Italia e Cuba un sentimento particolare, un feeling notevole che abbiamo sempre sentito come vero. Vorremmo dirvi che noi non immaginiamo di considerare Cuba come un luogo dove investire soltanto, certo, insieme anche questo, ma innanzitutto vogliamo considerarlo come un luogo dove vivere, un rapporto di amicizia profondo. Perché pensiamo che anche nei momenti in cui la storia fa gli straordinari, anche nei momenti in cui si scrivono pagine rilevanti che racconteremo ai nostri figli, ai nostri niposi, anche in quei momenti ciò che conta è innanzitutto il rapporto tra i popoli e un'idea di amicizia che io sento profondamente vera quando parlo con gli amici cubani e che penso che l'Italia possa rappresentare e possa in qualche modo anche incoraggiare l'intera Unione Europea ad avere come chiave di lettura dei nostri rapporti. E allora ci sono tanti artisti, intellettuali, imprenditori. Non si è mai interrotto il filo del rapporto tra cubani e italiani, italiani e cubani. Oggi che i due governi fanno un investimento di sistema sul futuro di questo rapporto e di questa partnership, sono assolutamente convinto che potremo ottenere dei grandi risultati, a condizione naturalmente che accanto al sostegno e all'impegno dei governi ci sia la volontà di fare progetti concreti e di seguirli. Grazie di cuore.